Bugia che ha detto dicendo che loro hanno cambiato la politica e stanno cercando di cambiare la politica. Esisteva una riforma costituzionale che è stata bocciata dagli italiani, quindi anche in passato si era cercato di fare le cose, ma gli italiani avevano deciso di non farlo. E poi quando elogi i poliziotti, invece che elogiarli e basta, dovrebbe cacciare i soldi per gli stipendi della politica.